Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com Qui davanti a me ho una serie di foto e di video scattati e registrati da iPhone 6S Benvenuti quindi nella nostra prova fotografica di iPhone 6S In cui analizzeremo le novità della fotocamera che adesso passa da 8 a 12 megapixel E la nuova registrazione in 4K di iPhone 6S Partiamo subito Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Allora ho qui davanti a me alcune foto di iPhone 6S scattate da iPhone 6S e video Che andrò a commentare per voi in questo camera shootout In questo test della fotocamera e della videocamera dell'ultimo iPhone di Apple Allora partiamo da questa foto, è una foto realizzata con un formato quadrato È una foto in cui possiamo notare come l'iPhone 6S riproduca benissimo tutti i colori Vi posso assicurare insomma che queste intanto sono foto unedited Quindi non sono state in alcun modo modificate dopo lo scatto Ma oltre questo posso farvi notare insomma come la riproduzione dei colori sia assolutamente fedele Come ogni colore sia ben distinguibile dagli altri Di come ci sia anche un contrasto leggermente più pronunciato rispetto a quello che avevamo su iPhone 6 L'altra cosa che si nota già da subito è la quantità di dettagli decisamente superiore In questo caso è scontato perché la fotocamera è passata da 8 a 12 megapixel Procediamo con la seconda immagine Un'immagine che mostra uno zoom al 100% su un particolare non molto distante dall'inquadratura della prima foto In questo caso appunto lo zoom è al 100% e si nota come rispetto ad iPhone 6 e precedenti I megapixel aggiuntivi di iPhone 6s consentono di avere zoom leggermente più definiti Zoom chiaramente digitali che quindi perdono meno dettagli Questa poi è una panoramica sempre nello stesso luogo quindi con la stessa illuminazione Potete vedere ci sono delle zone di luce, delle zone d'ombra E qui il range dinamico di iPhone 6s è veramente impressionante Perché ragazzi potete notare come siano riprodotte benissimo le zone di luce E come le zone d'ombra abbiano appunto la stessa ombra che c'era effettivamente in quel momento nella scena Mantenendo dettagli, colori e con una rumorosità dello scatto bassissima Considerate che queste foto panoramiche tra l'altro hanno un numero di megapixel veramente elevatissimo Perché sono somme di tante piccole foto che l'iPhone regista nel momento in cui noi le scattiamo Questa poi è una foto molto carina, un po' più ravvicinata ad una pianta Possiamo vedere benissimo tutti i dettagli dei fiori, dei singoli petali, delle foglie Veramente impressionante ma non così impressionante quanto il video che segue Video realizzato in 4K Si nota soltanto effettivamente la limitazione ormai dello stabilizzatore software di iPhone 6s Se questo video fosse stato registrato da iPhone 6s Plus sarebbe stato decisamente più stabile Comunque iPhone 6s non sfigura nonostante tutto La registrazione 4K mantiene una delle funzioni più utili di iPhone 6 Che abbiamo su iPhone 6 e abbiamo chiaramente anche sui 6s Ossia il focus pixel Quindi la possibilità di mettere a fuoco in modo praticamente istantaneo Su diverse profondità di campo Anche se quando registriamo in 4K questa possibilità viene leggermente ridotta in termini di velocità Quindi noterete una velocità leggermente inferiore rispetto a quella che noterete invece se registrata in 1080p Per farvi un esempio Anche questo è un filmato in 4K di una pianta in movimento Vedete la fluidità è comunque buona anche se il 4K viene registrato massimo a 30fps Quindi non è possibile registrare in 4K a 60fps Questa poi è una foto, una macro di dei fiori bianchi Fiori piccolissimi Distanza molto ravvicinata E qui l'iPhone 6s va un pochino in difficoltà Perché come potete vedere la messa a fuoco non è precisa Gran parte del fiore viene lasciata fuori fuoco Viene messa a fuoco una parte sbagliata nello scatto E quindi qui iPhone 6s non mi è tanto piaciuto Questo è lo stesso fiore invece in un timelapse Mentre questo è ancora una volta un video 4K Guardate che bello sfocato che si crea anche nei video E paradossalmente da questa distanza iPhone 6s mette meglio a fuoco nei video che nelle foto Questa invece è una live photos così come viene esportata dall'iPhone Si tratta quindi, questo era un selfie Che è stato poi esportato E come sappiamo già durante l'esportazione Vengono appunto esportati un file immagine sul computer E un file mov come questo Che ricorda come movenze, come fps molto ridotti Una gif alla fine Quindi questa è una live photos vista appunto in movimento Mentre questa qui è una foto a 12 megapixel appunto scattata Sul mare Mi piace molto questa foto perché potete notare i dettagli anche nella zona dell'acqua Dello scoglio Veramente sono dettagli impressionanti che con iPhone 6s si riescono a cogliere E con iPhone 6 non era possibile cogliere Nella stessa zona questo è un video in 4K Anche in questo caso ragazzi fluidità incredibile I dettagli al massimo potete guardare voi stessi insomma Quando arriva l'acqua si nota addirittura lo scoglio che si copre d'acqua E poi si pulisce diciamo e guardate i dettagli con lo zoom Al 100% ragazzi impressionante Qui si realizza tutta la potenza della registrazione 4K su un iPhone Che ci consente di fare zoom anche molto pronunciati Senza perdere dettagli Questa è una panoramica dello stesso luogo Anche in questo caso qui non c'erano problemi in lato ombre e luci Però vedete molto bella anche la risoluzione di questa foto Qui c'è un selfie Questa non è una live photo C'è un selfie statico Un selfie tradizionale scattato con la fotocamera da 5 megapixel anteriore Novità rispetto ad iPhone 6 Questa è una foto invece con uno zoom che si attestava circa sul 30-40% Come potete vedere i dettagli sono anche in questo caso ottimi Però se possiamo notare con più attenzione la zona delle onde Lì qualcosa si perde perché chiaramente le onde erano in movimento E con lo zoom più pronunciato qualcosa, qualche dettaglio viene meno Questo è un altro video 4K da iPhone 6S Con un leggero controluce Possiamo vedere quindi come si adegui la fotocamera in modo ottimale Ragazzi veramente stupenda la resa dei colori Anche quando si passa appunto dal controluce alla luce piena Questi poi sono due scatti simili Scatti sempre a 12 megapixel Possiamo notare qui i dettagli anche dell'acqua che cade dalla fontana Veramente ottimi E questo è un video in 4K in cui i dettagli veramente sono eccezionali ragazzi Più le guardo queste registrazioni in 4K Più mi convinco che iPhone 6S come fotocamera, videocamera soprattutto Possa andare benissimo per tutti coloro che hanno esigenze non professionali E che vogliono avere una fotocamera, una videocamera buona e all'altezza anche per i prossimi anni Questa è una foto ad esempio, una foto del porto della mia città Foto molto bella e molto difficoltosa per iPhone Perché qui vedete abbiamo diverse zone di luce, diverse zone d'ombra Tutte riprese alla grande dall'iPhone Vedete abbiamo ad esempio la cattedrale in fondo Con la particolarità di due campanili di cui uno mozzato Che è illuminata Dopodiché tutto il resto del centro storico del paese è completamente in ombra Poi ci sono delle barche e il primo piano della foto invece è completamente illuminata E qui veramente la resa è eccezionale a dir poco Guardate anche i colori e i dettagli dell'acqua impressionanti Questa è una foto simile alla precedente anche se cambia il punto di vista Anche in questo caso abbiamo ad esempio dei riflessi di luce sull'acqua molto carini E anche in questo caso appunto abbiamo un'ombra sulla parte in fondo E la luminosità invece anteriore dove la luce pendeva in pieno insomma la scena Questo è un controluce invece, un controluce molto banale di una chiesa Questa invece è una piccola macro in cui ancora una volta iPhone 6s si comporta un po' meglio rispetto alla macro del fiore Perché riesce a mettere meglio a fuoco lo schermo retina di iPad mini 4 Qui c'è un'altra foto in condizioni di scarsa luce che però è stata scattata veramente in modo impressionante da iPhone 6s Ottima la resa al buio, la vedremo anche in scatti successivi proprio in total buio E qui abbiamo anche un test della profondità di campo Vedete, ottimo lo sfocato, l'avevamo già visto Ora cos'è questa foto nera? Questa è una foto nera perché è stata scattata senza flash anteriore, senza retina flash Quella successiva invece è stata scattata con il retina flash Potete vedere ragazzi una differenza impressionante Il soggetto della foto non era assolutamente visibile senza retina flash E adesso si vede al 100% Questo è un breve slow motion della mia gatta Daphne che avete già conosciuto Slow motion chiaramente sempre a 240 fps come su iPhone 6 e 6 Plus Quindi non è cambiato nulla da questo punto di vista Mentre per quanto riguarda il video successivo questo è un veloce timelapse Poi abbiamo una macro di un fiore in questo caso messa bene a fuoco da iPhone 6S Si vede benissimo anche tutta la parte interna del fiore, veramente ottima questa foto Qui c'è Leila E perché ho messo questa foto di una gatta nera? Perché ho voluto fare molte foto, magari più di quelle che vedrete in questo video, alle mie gatte che sono nere Perché il nero è generalmente un colore difficile da mettere a fuoco Tant'è che anche iPhone 6S un po' in difficoltà c'è andato Tant'è che i dettagli maggiori si possono notare nella zona del naso della gatta Ma per il resto insomma la foto è comunque accettabile anche se è un po' fuori fuoco Perché appunto il nero è un colore difficile da mettere a fuoco per le fotocamere Questa foto invece ci conferma ancora un'ottima profondità di campo Con uno sfocato davvero ottimo, quasi ai livelli di una reflex Questa è una foto di un tronco con una lumachina sopra E potete guardare anche qui lo sfocato e i dettagli Ma noteremo meglio questi particolari del video in 4K registrato nella stessa scena Che arriva subito dopo Eccolo qui, vedete, possiamo notare addirittura le formiche che transitano vicino alla lumaca Lo sfocato è ancora una volta ottimo e veramente ottimi i dettagli, ottimo tutto Andiamo anche ad eseguire magari un piccolo zoom Vedete questo è uno zoom al 100% sulla lumaca e i dettagli rimangono tutti Ci avviciniamo quindi alla fine della giornata Qui era buio pesto se non per la luce della luna e per qualche lampione un po' distante Infatti c'è una rumorosità evidente dello scatto Mentre in quest'altra foto invece la rumorosità dello scatto è abbastanza ridotta La foto ha ancora moltissimi dettagli anche se la messa a fuoco non è andata dove volevo Sia sul tronco è andata più sull'albero in secondo piano Però comunque ottima foto al buio Questo è un selfie scattato al buio anche in questo caso grazie all'aiuto del True Tone Flash anteriore Del Retina Flash Questo invece è un video diciamo stile vlog, stile selfie video Che è stato realizzato nella stessa situazione di luce Vedete c'è rumorosità video chiaramente Però è comunque del tutto accettabile e rispetto ad iPhone 6 ragazzi Ne ho fatti tanti di video in queste situazioni di luce con iPhone 6 Posso dire che la gestione delle ombre, insomma della scarsa luce dei video, delle foto di iPhone 6s È decisamente un'altra cosa rispetto a quanto faceva vedere iPhone 6 E lo noterete soprattutto nel video che segue perché è stato realizzato sì con un po' di luce Ma era una luce abbastanza soffice E soprattutto è un video in 4K ravvicinatissimo ragazzi Questa è una lumachina che stava transitando vicino a me E praticamente possiamo notare benissimo tutti i dettagli Io continuo ad avvicinarmi perché vedevo che la messa a fuoco mi accompagnava Potete vedere quanto siamo vicini C'è sfocato intorno a tutto il soggetto Quindi veramente la ripresa è molto ravvicinata E guardate i dettagli non si perdono Questa è una delle riprese più impressionanti che sono riuscito a fare con iPhone 6s Non solo per i dettagli che vengono mostrati Ma anche per il fatto che era una situazione di buio Non dico totale ma abbastanza importante Questo è ancora una volta un video in 4K registrato su un soggetto in movimento Vedete l'iPhone segue benissimo la scena E c'è luminosità video, si nota però nulla di importante Siamo quasi alla fine del test Questa è una foto scattata al buio È una macro che è venuta sorprendentemente bene C'è pochissimo rumore fotografico Insomma c'è pochissimo rumore nello scatto Quindi ottimo risultato Questa è un'altra foto panoramica in questo caso In cui possiamo notare come il bilanciamento del bianco In situazioni di scatti notturni Vada chiaramente sul giallino Però possiamo anche notare ancora una volta La rumorosità della foto è bassissima Abbiamo pochissimo rumore fotografico In qualsiasi zona dello scatto E per il resto insomma passiamo alla penultima Anzi all'ultima foto In cui possiamo vedere gli zampilli d'acqua Anche questa è una foto scattata con le stesse situazioni di luce Foto del genere fatte con iPhone 6 ragazzi Vi posso dire che le ho fatte E avevano una rumorosità tutta diversa iPhone 6s riduce al minimo la rumorosità Quindi la gestione anche ad iso abbastanza alte È ottima Ci spostiamo alla fine all'ultimo video Questo è un video 4k registrato da iPhone 6s In condizioni di luce scarsa E qui devo dire che iPhone 6s mi ha un po' deluso Del complesso perché mi aspettavo qualcosina di più Bene ragazzi quindi questa era la nostra prova fotografica di iPhone 6s Speriamo sia stata abbastanza soddisfacente Fatemi sapere se avete commenti, domande, dubbi Nei commenti del video chiaramente E noi ci risentiamo alla prossima Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com